il fatto di marcotti con gli scenari economici e politici più importanti che interessano naturalmente i mercati ma che interessano soprattutto la nostra view per il futuro tutte le notizie principali calde messe sul tavolo insieme a giancarlo marcotti che vado a salutare giancarlo ben trovato ben trovata manuela è un saluto naturalmente anche a tutti gli ascoltatori beh diciamo che c'è l'imbarazzo della scelta come sempre però io se sei d'accordo partirei con quello che è successo oltreoceano in america perché insomma la ormai la decisione sembra io uso un po ancora il condizionale esserci cioè biden joe biden il 46esimo presidente degli stati uniti perché uso leggermente ancora un po il condizionale perché trump insomma sembrerebbe non arrendersi e promette battaglia per i cosiddetti brogli elettorali però insomma andiamo per gradi giancarlo tutti aspettavi questa questa vittoria cioè di joe biden i sondaggisti hanno sempre detto vincerà lui sì certo appunto a sentire i sondaggi doveva star a vincere nella realtà purtroppo si è verificata una delle pagine più nere della storia da almeno degli ultimi anni perché chiaramente ad uscire a pezzi da questa elezione sono gli stati uniti d'america e loro oramai supposto così la loro supposta democrazia perché chiaramente sono avvenute delle cose che che normalmente noi attribuiamo che ne so alla bielorussia oa quegli stati lì e invece è accaduto negli stati uniti dove un verdetto che sembrava scontato alla alla sera del martedì il mercoledì invece è stato prima messo in discussione poi ribaltato quindi è accaduto qualcosa che non solo non era mai accaduto in precedenza e questo sarebbe il minimo ma che va contro le leggi contro la logica insomma quindi niente sappiamo che gli stati uniti da questo da questa tornata elettorale escono proprio con le ossa rotte insomma la grande democrazia americana non è una vera propria grande democrazia eppure il discorso il primo discorso di joe biden non ancora ufficiale perché ricordiamo che l'insediamento avverrà in gennaio però insomma il primo discorso dopo la vittoria è andato nella direzione totalmente opposta cioè biden si è appellato all'unità degli stati uniti chiaramente anche come auspicio ci mancherebbe perché un presidente deve unire non certo dividere ma lui ha detto io sarò il presidente di tutti non esistono zone blu e zone rosse tanto i colori oggi vanno per la maggiore anche sull'italia quindi vediamo i vari paesi vari stati divisi a colori ma a parte questo appunto ha detto esistono gli stati uniti d'america come come riuscirà partendo dal presupposto che in realtà invece l'america sia divisa molto ulteriormente su queste elezioni anche inserite in un contesto complicato a livello mondiale quello caratterizzato dal covid come riuscirà cioè e riuscirà anzi facciamo così riuscirà secondo te biden a essere convincente da questo punto di vista beh tanto bisogna dire che biden non conta nulla è un personaggio così messo lì chiaramente dietro di lui ci sono altre persone lui aveva questa notorietà derivante dal fatto che fosse il vicepresidente di obama ma è una persona di bassissimo livello oltretutto a parte lui che ha insomma un passato così con lati oscuri il figlio certamente è implicato in diversi scandali quindi non è non è certo la persona che ci voleva cioè mentre obama pur democratico anche lui ma era la grande novità cioè a parte insomma il primo presidente di colore ma era era veramente la grande novità e quindi oltretutto appunto eletto in un anno particolare il 2008 che era l'anno della grande crisi quindi in obama speravamo un po tutti no al di là del fatto di democratico o repubblicano speravamo si dimostrasse il presidente di tutti gli stati uniti e invece biden no biden è chiaramente il presidente di una parte degli stati uniti oltretutto eletto in maniera praudolenta quindi insomma peggio di così non allora prima domanda tranchean poi mi sono segnata alcuni punti di conseguenza però poi ti voglio fare anche giancaro una domanda che che va direttamente ad analizzare i mercati ma ha vinto il politically correct secondo te in queste elezioni no l'esatto contrario ha vinto chi ha barato anziché la correttezza politica ha vinto ma non è ancora da dimostrare questo giancarlo chiaramente chiaramente però se se si guarda solamente a come è avvenuto la cosa è chiaro cioè allora poniamoci delle domande prima perché biden chiede ai suoi elettori di non andare a votare nei seggi ma di votare via posta che che significato aveva questa richiesta per quale motivo caso a covid no lo cancella casa casa covid no no perché perché da sempre ma è anche ovvio che sia così accade questo in tutto il mondo ma comunque i democratici hanno i voti in particolare delle persone giovani i repubblicani hanno i voti delle persone più anziane i democratici sono nettamente in vantaggio nella fascia 18 29 anni sono ancora in vantaggio nella fascia 19 44 anni sono in svantaggio nella fascia 44 65 anni e perdono nettamente negli over 65 quindi il covid eventualmente avrebbe tenuto lontano i repubblicani non i democratici dal voto quindi quella storia è assurda non solo non è vera ma diventa assurda quindi aver chiesto da appunto da parte di biden di non andare a votare ma di votare per posta è una delle cose che qualcuno deve spiegare cioè con il covid no anzi sarebbe stato una un avrebbe avuto l'effetto contrario quindi non c'era assolutamente motivo e sono arrivati una valanga ufficialmente di voti via posta e cominciano insomma sembra che abbiano votato delle persone che avevano 120 122 anni e quindi anche fosse adesso esagero ma anche fosse uno solo è già indice di frode va bene ma si approfondirà immagino no tutto questo giancarlo insomma voglio sperano no 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 non si approfondirà perché chiaramente a questo punto vedete tutti no cioè tutte le persone dicono a trump lascia stare perché se anche tu avessi ragione e allora supponiamo appunto che trump presenti tutti i ricorsi si facciano tutti i ricorsi e si vede che ci sono stati dei brogli comunque esce un america pezzi perché esce un america peggio di lucasci e allora poi dopo arrivo sulle altre questioni legate un po al politica le corrette insomma non sai che io c'è uscirebbe uscirebbe un come posso dire un appunto un america a pezzi cioè se anche appunto trump facesse ricorso ed essero ragione a trump quello che ne esce chiaramente lì forse ancora peggio perché se dovesse veramente essere confermato tutto figuriamoci che c'è quale scenario potrebbe aprirsi ecco ma giocare una domanda sempre a partire da questa situazione sui mercati per tanto tempo mi riferisco al tempo della campagna elettorale ovviamente che è stata già di per sé una campagna elettorale strana anche nella persona di donald trump che se ben ti ricordi questi sono dati di fatto sembrava quasi che a un certo punto avesse rinunciato a correre con la sua tempra e attenzione alla casa bianca per poi tornare infatti insomma nei sondaggi quantomeno nell'ultimo periodo il distacco tra i due si era un po allentato c'era un po diminuito ma volevo dire il fatto che c'è in qualche modo per settimana ci stiamo sentiti dire guardate i mercati vogliono trump volevo arrivare lì non si scontra con quello che stiamo vedendo invece in queste ore successivo alla alla proclamazione della vittoria di biden cioè i mercati sono tonici tonicissimi e si pensa che sia per quello cioè che abbia vinto biden insomma no neanche questo cioè i mercati sono tonici perché si chiude la vicenda frodi cioè viene eletto biden gli si dice tram senti lascia perdere perché appunto nel caso tu avessi ragione cioè nel caso si dimostrasse che che biden ha truffato comunque i democratici hanno truffato ad uscirne a pezzi non è oltre è anche il partito democratico ma è soprattutto gli stati uniti d'america che passano insomma per la grande democrazia mondiale quindi i mercati volevano solamente che uno dei due vincesse qualunque dei due avesse vinto avrebbe calmierato la situazione insomma certamente però bisogna aggiungere un'altra cosa bisogna aggiungere un'altra cosa la differenza se avesse vinto uno se avesse vinto l'altro non era tanto sui mercati che comunque sarebbero nell'immediato sali saliti ma in chi saliva di più cioè in questo caso io ho visto stamattina naturalmente è la è la la prima reazione dei mercati all'ufficializzazione praticamente della del nuovo presidente il settore che stava guadagnando di più all'apertura dei mercati e il settore del viaggio e turismo che è un po strano certo aveva perso molto nei giorni scorsi nelle settimane scorse eccetera però allora come se è ok adesso che ha vinto biden e il covid se lo dimentichiamo a quello che doveva servire è servito cioè fare leggere biden adesso il covid vedrete che non fa più paura vedere le le compagnie aeree salire così per esempio mi ha lasciato stamattina all'apertura del mercato mi ha lasciato a parte ecco naturalmente lì c'è un'altra questione la Norwegian Airlines che invece perde il 22 per cento ma la Norwegian Airlines perde il 22 per cento perché il governo norvegese ha detto che non è più disposto a dare gli aiuti a quella compagnia quindi negli ultimi sei mesi ha perso il 68 per cento quel titolo quindi insomma non è via adesso anzi quello ha confermato che tutti tutte le compagnie aeree sono praticamente tutte fallite e vivono solamente del degli aiuti di stato insomma quindi vedere comunque ecco il viaggio e turismo ad essere il settore trainante del del rimbalzo odierno è un'altra cosa che mi lascia molto perplesso e che mi fa pensare che anche sul coronavirus non ce l'abbiano raccontata giusta ecco bene siamo a posto allora a proposito di racconto e di informazione appunto io mi sono segnata ecco sia un qualcosina rispetto alle elezioni americane sia anche rispetto alla situazione italiana covid e decisioni e tra poco ci arriviamo no perché parlavo di politically correct giancarlo che ci mancherebbe non è che necessariamente è una cosa sempre sbagliata però insomma dipende no soprattutto quando non si ha magari coraggio di affrontare determinate situazioni nel modo concreto e reale poi ciascuno ha sempre la sua opinione è sempre rispettabile cioè mi viene da pensare che leggendo tutte le notizie gli articoli non sono della stampa italiana anche della stampa straniera cioè appunto biden e la sua vicepresidente kamala harris non hanno nemmeno iniziato a operare ma addirittura ci sono degli step poi magari li li ripercorriamo da qui all'insediamento vero e proprio cioè quando entreranno nella casa bianca dicevo non hanno neanche iniziato a operare che subito sono considerati insomma parte della storia in senso positivo come facciamo a saperlo magari sarà così magari no insomma è un po' presto per quello che parlavo di politica di corrett sia appunto ma più o meno sappiamo dalla campagna elettorale in che cosa si augura biden sono cioè sarà difficile per lui fare quattro anni come li ha fatti il trump perché trump obiettivamente prima naturalmente del coronavirus aveva ottenuto dei risultati strappitosi quindi non sarà facile per biden però adesso insomma come dicevo probabilmente il coronavirus passerà il secondo piano perché il suo compito lo ha lo ha svolto perfettamente adesso può o trovano il vaccino o insomma oppure perde virulenza tu dici Giancarlo che tac arriverà il vaccino adesso che così almeno il covid sarà problema tra virgolette superato biden l'ha reso il coronavirus anche trump chiaramente però biden contestando quello che trump ha fatto ha utilizzato il coronavirus proprio in pole position nei punti cruciali della campagna elettorale cioè dicendo che trump non ha fatto nulla per contrastarlo e da qui ripartirà lui insomma potrebbe già cadere in in partenza uno dei suoi punti forti della della campagna elettorale perché appunto di fatto non ci sarà più l'emergenza coronavirus io me lo auguro per un discorso sanitario insomma cosa almeno tutti possiamo ricominciare a vivere soprattutto a livello economico però insomma mi sembra un po troppo ottimistico hai capito quello che voglio dire no però insomma se si comincia a dire che ha perso virulenza che non è più letale come prima insomma vedrete che poco alla volta i virologi cambieranno idea cioè fino adesso era il problema essenziale sul veniva decimato il mondo da questo coronavirus vedrete che adesso i virologi cambieranno ecco ci manca solo questo visto che non si capisce niente a questo proposito giancarlo un accenno anche ovviamente a quello che sta succedendo in italia con le decisioni rispetto alle varie zone insomma colori che potrebbero cambiare peraltro nelle prossime ore a seconda dell'incidenza del del virus sui vari territori e sappiamo molto bene com'è la questione ma insomma confusione totale almeno perché ogni giorno la situazione sembra cambiare sì confusione totale o 11 non sa se può uscire se deve uscire con un foglio se deve se può stare fuori oltre una certa ora l'unica cosa che si sa almeno abbastanza chiara è sulle scuole quelli che devono fare didattica a distanza e quelli che invece possono ancora andare nelle aule poverini mi spiace per i bambini piccoli che dovranno portare alla mascherina per ore ore quello veramente non ho più bambini piccoli fortunatamente ma veramente mi per questa generazione di bambini dai 6 ai 10 anni che saranno costretti a portare secondo me inciderà in tutta la loro la loro vita questa questa situazione qua cioè li faranno credere di stare in un mondo contaminato veramente per gli adulti non è una cosa positiva ma hanno visto un altro mondo questi si approcciano adesso al mondo lo vedono in questa maniera è una cosa che veramente mi fa tristere beh insomma se vogliamo fare un collegamento immediato visto che hai parlato delle mascherine c'è già questa bufera sul nuovo commissario per la sanità calabrese zuccatelli che ha detto che non servono queste mascherine cioè è incredibile come no poi da voce ufficiale arrivino informazioni sbagliate non si sa più a chi affidarsi io ritengo che questo sia di una gravità totale ancor più di quello che sta succedendo realmente beh ma quello che dice questa persona è perfettamente vero cioè le mascherine non servono assolutamente a nulla ma io non lo so però giancarlo capisci che mi devo fidare di quello che mi c'è io non sono un medico non sono un'esperta di mascherine come la maggior parte degli italiani e io mi appello anche alla come dire la coscienza di tutti anche chi dice ma non non sto parlando con te in generale perché se ne sentono di ogni cioè io dico io non lo so non lo posso sapere la metto sto zitta spero che un giorno arriveremo a non averla più e ci mancherebbe altro perché la butterò e non la vorrò mai più vedere però non sapendo in realtà perché non sono un'esperta di mascherine ascolto e però se a livello istituzionale mi viene detta una cosa e un'altra capisci bene che a un certo punto è anche normale che la gente se ne freghi no di quello che viene detto no ma hai perfettamente ragione cioè la stessa cosa la faccio anch'io c'è anch'io la uso e poi la butterò no la uso semplicemente perché se non dovesse usarla rischierei di andare a prendere multe che dovrei fare poi ricorsi vari eccetera così quindi evito e ma detto questo ma attenzione il fatto che le mascherine non servono a nulla manuela lo dicevano le stesse persone che oggi ti dicono che invece sono assolutamente indispensabili quindi attenzione se se vai a vedere le dichiarazioni di quei virologi che che appunto quando quando l'aveva indossata la mascherina per la prima volta fontana il presidente è stato preso in giro da tutti ma cosa si mette addosso non serve a niente quella cosa gli stessi virologi che adesso dicono che la mascherina è assolutamente indispensabile quindi non ha cambiato idea il signore calabrese che hai detto tu le responsabili della sanità della calabria hanno cambiato idea i virologi che vediamo in televisione quelli hanno cambiato idea quelli dicevano che la mascherina non serve a niente poi dopo improvvisamente chissà perché è diventata però se tutto il mondo le sta indossando ste mascherine devo devo pensare che il mondo sia impazzito all'improvviso cioè voglio sperare di no perché altrimenti è inutile anche che stiamo qua a discutere di del futuro perché se il mondo impazzito non c'è futuro adesso lo dico in modo ovviamente provocatorio giancarlo ma no e purtroppo sì purtroppo ti devo dare la risposta sì il mondo impazzito ma dai mai vi vedi vedevi le le immagini la merkel con macron che si danno con il gomito ma ti pensi che sia una cosa normale quella lì cioè quelli sono a capo della germania della francia i due paesi principali dell'europa e vanno lì con il gomito con sulla mascherina sono va bene evita di usare questo è la verità non ti faceva non ti fa ridere vedere questi qua michelle la ponderlion che si toccano con il gomito guarda a me personalmente non piace proprio come gesto e non credo di non averlo mai fatto ma perché piuttosto saluto con gli occhi voglio dire però diciamo che diciamo che non è quello però insomma credo neanche a te giancarlo è chiaro che adesso si sta anche un po sdramatizzando non è quello che cambia la vita in questo momento se si vuole un dasto gomito che se lo diano ma lo so che lo pensi anche tu ci mancherebbe altro no ci sono no alla stessa maniera anch'io non ho mai fatto questa cosa qua e come hai detto tu se una persona non vuole stringermi la mano la guardo con gli occhi alzo la testa per fare un saluto era quindi assolutamente d'accordo con te dico solo quando mi dici ma se tutto il mondo usa la mascherina cosa ha impazzito tutto il mondo la mia risposta è sì impazzito tutto il mondo bene quando ne usciremo da questo da questa non è ecco se vogliamo prendere scusami se vogliamo prendere l'eccezione la mascherina per esempio non si porta in svezia ecco se tu vai in svezia non portano la mascherina però però il primo mi se non ricordo male adesso non so se l'ha detto lui o qualche qualche esponente del governo ha un po ritrattato su quella che è stata la politica e il cosiddetto modello svezia cioè con l'aumento dei casi che c'è stato anche lì hanno messo in discussione il fatto che rispetto ad altri paesi la svezia abbia sempre adottato questa politica più libera rispetto alle restrizioni cioè senza restrizioni come in altri paesi a questo cosa rispondi allora la svezia ha adottato delle restrizioni sulle persone a rischio allora le persone a rischio attenzione qui la questione cioè praticamente le persone anziane con altre patologie fatto perché sono anche le uniche che muoiono ovviamente non muore nessun bambino nessun ragazzo nessuno proprio in tutto il mondo zero bambini zero ragazze eccetera quindi io le uniche persone che muoiono sono persone estremamente anziane che hanno altre patologie le quali muoiono di coronavirus esattamente come muoiono ogni anno per il virus influenzali vogliono nella stessa maniera quindi se vogliamo ogni anno è giusto che quelle persone a rischio persone obese persone che appunto hanno patologie gravi eccetera così ogni anno è giusto che che abbiano delle precauzioni perché il virus influenzale può determinare la morte nel senso che alla fine la morte è chiaro che è determinata dalle patologie pregresse che hanno però è influenzare è quella scusate il gioco di parole per l'influenza ma comunque insomma avere un suo peso no sì quindi giustamente la svezia ha fatto questo cioè cerca di tutelare le persone siamo d'accordo io ovviamente adesso sono andata perché non avevo in mente esattamente cosa stesse arrivando dalla svezia c'è stato questo appello dei medici svedesi a misure più restrittive perché pare che i casi rispetto alla prima ondata di coronavirus quando poi effettivamente le misure adottate sono riuscite ad arginare il problema no nonostante fossero meno meno stringenti e meno proibizioniste mettiamola così però i casi cioè leggo è scusate il paese ha registrato poco meno di 142 mila contagi un picco dei casi giornalieri passato dai 180 del 20 marzo ai 4062 del 30 ottobre per questo i medici stanno chiedendo misure più restrittive per evitare che il contagio non si diffonda a livelli esponenziali insomma sì assolutamente ma è vero cioè io non sto negando che no 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 lo so che non stai negando ci mancherebbe sei tutto tranne che negazionista Giancarlo anzi lo dico semmai qualcuno è solo che sto analizzando con te proprio in presa diretta questi numeri perché giustamente stiamo parlando delle varie politiche no nel mondo che per capire la direzione giusta da prendere anche se credo che non lo capiremo mai ecco no io appunto dico poi lo possiamo chiamare coronavirus e certamente esiste un virus e certamente questo ha un'influenza ma ripeto l'influenza che ha questo virus è fortunatamente è un virus poco letale e appena si è capito quali quali problemi poteva causare attualmente si è corsi ai ripari ma ripeto e diventa una cosa estremamente blanda per più abbassiamo l'età infatti per dire anche noi che siamo quelli italiani che siamo quelli che hanno le misure più drastiche di fatto ok e noi faccio l'esempio da 0 a 3 anni non facciamo usare la mascherina ai bambini da 0 a 3 anni quindi riteniamo che da 0 a 3 anni il coronavirus non abbia nessun effetto perché se avesse degli effetti cureremo i nostri bambini e e certo quantomeno diremmo non fateli uscire di casa se c'è in qualche modo non li esporremmo al rischio certamente questo sicuramente sì esattamente quindi quindi per dire per dire già noi riteniamo che più è bassa l'età e più questo questo virus non incide per nulla quindi ripeto è un virus che incide in una fascia di persone che obiettivamente purtroppo per loro hanno altre altre problematiche e problematiche molto serie ovviamente non problematiche da poco perché per esempio abbiamo visto quanti sportivi sono stati trovati positivi sono centinaia oramai nel mondo ma nessuno ha avuto conseguenze serie quindi chi ha un fisico normale diciamo eccetera così da questo coronavirus non deve avere particolari timori ecco d'accordo Giancarlo no no chiarissimo noi abbiamo chiarito che ci mancherebbe si sta valutando ci sono opinioni diverse io poi ti devo salutare però chiaramente poi immagino tu tratterai questi temi anche nei tuoi video quindi io rimando anche tutti gli amici che ci stanno seguendo a te su finanza in chiaro però giusto per ringraziare anche chi ci sta scrivendo chi scrive io non ci credo sarà magari un'influenza più aggressiva ma la vedo un business invece chi dice allora come si dovrebbe fermare la diffusione del virus giusto per capire invece chi è scettico rispetto al fatto che si senta dire no vabbè ma tanto le restrizioni non servono adesso lo dico molto terra terra abbiamo parlato per mezz'ora di queste cose un po' meno ma insomma piuttosto che la mascherina non serve insomma opinioni diverse che fanno anche capire anche giustamente l'ambito in cui ci stiamo muovendo cioè quello in cui bisognerebbe affidarsi a persone che ci diano delle indicazioni precise ma insomma per ora non è avvenuto forse perché di questo covid nessuno ha capito ancora niente con precisione Giancarlo ci vediamo sulle fonti tv la prossima settimana io ricordo che anche questo video sarà disponibile sul nostro canale youtube on demand e poi naturalmente finanza in chiaro con Giancarlo marcotti grazie mille grazie a te manuela e come al solito un saluto a tutti gli ascoltatori grazie io vi saluto qui per questa prima parte di live della giornata torniamo sui mercati alle 14 30 questo pomeriggio vi farà compagnia giacomo jacomino però adesso tutti i nostri approfondimenti del caso a partire da meme economics la finanza attraverso i meme insomma quindi un momento un po più di sorriso per poi tornare agli altri approfondimenti di finanza ed economia grazie per averci seguiti fino a qui